27 gennaio 2019 ci troviamo presso l'Istituto Comprensivo Bonghi Rosmini di Lucera in occasione dell'Open Day. Siamo in compagnia del professor Alfredo Padalino. Che cosa ha organizzato l'Istituto Rosmini di Lucera per il suo Open Day? La giornata in cui la nostra scuola, il plesso Rosmini, si apre al territorio, alla cittadinanza, alle comunità locali. Nel nostro plesso sono attivati due licei, il liceo linguistico e il liceo delle scienze umane con l'aggiunta dell'opzione economico-sociale. La nostra scuola è una comunità accogliente, una comunità inclusiva dove ogni ragazzo, ogni adolescente può ritrovare la sua dimensione attraverso anche percorsi di studio che sono diversificati a seconda delle esigenze di ciascun ragazzo. Per noi ogni ragazzo ha qualcosa di speciale. È vero che ci sono laboratori anche che riguardano e interessano i ragazzi con bisogni educativi speciali, ma per noi davvero ogni alunno ha qualcosa di originale da rivelare. Aspetta a noi docenti scoprire e orientare questi talenti, queste capacità che sono nascoste in ciascun ragazzo. Qual è l'offerta formativa nello specifico dell'Istituto Rosmini di Lucera? Avevamo già da anni attivato il liceo linguistico con una caratteristica particolare che è l'ESABAC. L'ESABAC è una strategia didattica che consente ai nostri ragazzi di poter conseguire due diplomi in uno. Un diploma di maturità italiano e il baccalauréat francese attraverso un solo esame di Stato. Quindi è come se i nostri ragazzi seguissero due licei in uno e dà valore legale sia in Francia che in Italia. Chi sceglie questa opzione, quella del nostro linguistico, può studiare una disciplina che è la storia dal primo anno in lingua francese. Ma anche per le altre lingue c'è la possibilità di studiare almeno una materia, una disciplina non linguistica in un'altra lingua. Le nostre lingue, quelle che si insegnano nel nostro liceo linguistico, sono il francese, l'inglese e il teresco, che poi rappresentano le tre lingue di lavoro della Commissione europea. Tutti i documenti ufficiali della Commissione europea sono stilati nelle tre lingue che noi proponiamo al liceo linguistico di Lucera. Aggiungiamo qualcos'altro. Riguardo alla formazione del bienio del liceo linguistico, non possiamo dimenticare che la nostra culla linguistica è il latino e quindi i ragazzi ritroveranno nel bienio lo studio della nostra tradizione classica, la nostra culla, la nostra provenienza storica, che poi dà un valore aggiunto a tutto lo studio che seguirà negli anni successivi. Il nostro metodo è un metodo multilinguistico, interdisciplinare, che sicuramente i ragazzi potranno trasportare, trasferire nella propria sfera individuale, relazionale e un giorno, speriamo, professionale, quella dell'apertura mentale nei confronti delle altre civiltà, delle altre culture, degli altri popoli. La nostra civiltà occidentale, che è fondata sulle nostre lingue, sulle nostre tradizioni linguistiche e letterarie, ormai abbraccia l'intero pianeta, è globalizzata, ma è una tradizione che non è monolitica, ma è sempre in divenire, è dinamica e questo approccio consente, secondo me, ai ragazzi una maggiore apertura mentale. Professor Padalino, lei prima parlava dei laboratori BES, bisogni educativi speciali per il sostegno e l'inclusione dei ragazzi non soltanto diversamente abili, può essere più preciso? Sì, abbiamo, secondo la nuova normativa, una nuova categoria di alunni, che sono gli alunni con bisogni educativi speciali, è vero, alunni BES, ma per noi i laboratori rappresentano un'opportunità per tutti i ragazzi, che per noi sono speciali, sono speciali tutti i ragazzi, per poter apprendere non soltanto dal punto di vista teorico delle conoscenze, ma anche apprendere delle competenze, delle abilità per rendersi nel tempo anche autonomi. Non bisogna dimenticare che una delle nostre finalità è rendere i ragazzi autonomi nel tempo, quindi non soltanto insegnare qualcosa di teorico, conoscenze, un insieme di conoscenze, ma strutturare queste conoscenze anche all'interno di attività laboratoriali, quindi l'esperienza pratica, tecnica, che permette, consente anche a ragazzi che seguono percorsi diversificati, di poter acquisire delle competenze che possono poi spendere al di fuori della scuola, per essere veramente più autonomi. La scuola deve rendere liberi e autonomi. E non manca il liceo delle scienze umane? Sì, è un po' l'erede del vecchio istituto magistrale o del liceo socio-psicopedagogico. Il liceo delle scienze umane è come un viaggio meraviglioso alla scoperta dell'uomo, nelle sue dimensioni sociali. Abbiamo due possibilità, due indirizzi. Il liceo delle scienze umane è con lo studio del latino per tutti gli anni e lo studio del diritto e dell'economia nel bienio. Invece nell'opzione economico-sociale è il francese che si fa sostituire al latino. Il francese, ricordiamolo, è la seconda lingua più parlata al mondo. È ancora la lingua della diplomazia internazionale ed è parlata in tantissimi paesi nel mondo. È ancora una lingua ufficiale in Africa e in tantissimi paesi africani con i quali noi abbiamo tantissimi rapporti commerciali. E poi lo studio del diritto e dell'economia che viene affrontato in tutti gli anni del liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale. Ed è uno studio molto interessante, forse è il liceo che avrei scelto io, lo confesso, ai miei tempi. Perché si affronta appunto lo studio dell'uomo attraverso l'antropologia, attraverso la pedagogia, la psicologia e la sociologia. E poi offre un ventaglio di sbocchi professionali, anche di studio dopo il diploma, perché ci si può iscrivere tranquillamente a tutte le facoltà, ma in particolare sono indicate quelle che riguardano più l'educazione e la formazione dei ragazzi. Ma non dimentichiamo che si possono approfondire studi anche dal punto di vista sociologico e magari studiare anche la nostra tradizione culturale, la conservazione dei beni culturali. Professor Padalino, ci troviamo nell'aula per lo studio linguistico dell'Istituto Rosmini. Sì, è il laboratorio linguistico perché tutte le nostre attività devono essere comunque corroborate anche da un aspetto pratico, al di là delle conoscenze teoriche, bisogna acquisire anche delle competenze e delle abilità. E abbiamo allestito per l'occasione per l'Open Day il nostro laboratorio, ma durante l'anno i ragazzi possono ovviamente frequentarlo attivamente con le nostre colleghe. E ricordo che in questa giornata ci saranno da parte delle nostre alunne un'attività teatrale, una rappresentazione multilinguistica, multidisciplinare, quindi così avremo modo e avrete tutti voi, gli spettatori di Telecattolica, la possibilità di conoscere meglio sia le nostre ragazze, ma anche l'offerta del nostro istituto, del nostro plesso, quindi con un lavoro teatrale che sarà recitato nelle lingue di studio del liceo linguistico. Non mancano altre aule per altri laboratori? Sì, sono stati allestiti anche laboratori di economia e diritto, che è fondamentale nel percorso di studi, soprattutto dell'opzione economico-sociale. Abbiamo anche laboratori, molto interessante, laboratorio di fisica, e lo visiteremo tra un po', e anche in altre discipline. Quindi, diciamo, c'è uno spettro, un ventaglio di offerte, di attività pratiche, tecniche, che possono sicuramente interessare e di sicuro formeranno meglio i nostri adolescenti, i nostri ragazzi, che ricordiamo saranno i cittadini italiani ed europei del futuro. E siamo giunti nel laboratorio scientifico dell'Istituto Rosmini. Sì, laboratorio scientifico dove i ragazzi possono affiancare alle attività svolte in classe di tipo più teorico con le lezioni frontali, invece, attività pratiche, tecniche, nelle varie discipline scientifiche che vanno dalla fisica, alla chimica, alla biologia. E qui possono ritrovare anche degli strumenti, anche degli oggetti da maneggiare con cura da parte dei nostri esperti, anche dei colleghi. E possono vedere, e posso testimoniare anch'io, visto che ho assistito a molte di queste lezioni durante il corso degli anni, che in effetti si rende visibile ciò che di solito, invece, almeno per i ragazzi della mia generazione, era soltanto qualcosa di astratto, di teorico. Invece, per fortuna, grazie a un laboratorio del genere che è stato costruito nel corso degli anni e si è arricchito sempre di più di oggetti, anche di materiale, reperti. Sì, abbiamo anche uno scheletro che è stato recuperato e poi esposto qui nella nostra teca. E i ragazzi veramente possono acquisire delle esperienze, oltre che delle conoscenze. Ed eccoci giunti nel laboratorio BES, Bisogni Educativi Speciali. Sì, è il laboratorio dove i nostri ragazzi, che hanno appunto delle caratteristiche originali, sono ragazzi speciali, possono intraprendere dei percorsi di attività di laboratorio, quindi pratici, sia realizzando degli oggetti anche, a seconda anche dei periodi dell'anno scolastico, relativi a feste, per esempio siamo entrati nell'atmosfera del carnevale e alcuni dei nostri ragazzi hanno realizzato delle maschere. Abbiamo laboratori anche di gioco motricità, con l'attività che si svolge in palestra, e poi anche di cucina, con la realizzazione anche di dolci oppure di pietanze salate, grazie all'ausilio anche di tutti i nostri colleghi che si occupano di questi laboratori. Oltre al laboratorio di canto e di musica, noi abbiamo anche allestito in questi anni una sorta di karaoke, coinvolgendo veramente ragazzi che hanno delle grandi capacità di canto e anche di memorizzazione, e quindi sfruttiamo e potenziamo anche questo loro talento che magari altrimenti non verrebbe espresso. Sì, è il nostro laboratorio, un laboratorio che cerca di sviluppare le autonomie nei singoli ragazzi con bisogni educativi speciali, e riguardo appunto al laboratorio di musica e canto, abbiamo unito sia la passione per il canto, per il pentagramma, che molti ragazzi hanno, con lo sviluppo anche di attività pratiche, manuali, e quindi grazie anche all'ausilio delle nostre colleghe abbiamo realizzato degli strumenti musicali e in maniera artigianale, con ragazzi che veramente per noi sono stati una sorpresa. evidentemente avevano nascosta dentro di sé queste potenzialità e sono state ben espresse all'interno del laboratorio, strumenti sia a corda che a fiato e tamburi. Professor Padalino, per tutti quei ragazzi che stanno terminando il percorso delle medie e si trovano nell'indecisione di scegliere la scuola che poi li porterà al proprio futuro, anche lavorativo. Ecco, come convincerli ad iscriversi all'Istituto Rosmini di Lucera? Beh, ragazzi, soprattutto mi rivolgo anche alla parte maschile della nostra città, delle nostre comunità locali. Il Plesso Rosmini offre veramente un grande ventaglio di offerte formative che possono veramente servire nella vita a livello sia personale ma anche professionale. Il liceo linguistico e il liceo delle scienze umane sono veramente dei licei di altissima formazione. Abbiamo sempre una grande cultura classica di base e persino per il liceo economico-sociale abbiamo anche una proiezione in un domani che è sempre più globalizzato ed è sempre più caratterizzato per esempio dalla comunicazione. Quindi invito tutte le ragazze, ma in particolare i ragazzi che sono un po' carenti e sono sì, vabbè, è sempre un Plesso che al 90% è popolato da adolescenti, ragazze. Invito appunto in particolare i ragazzi e ripeto, ribadisco che è sicuramente la scuola che avrei scelto anch'io se avessi avuto quest'età nella nostra epoca. È una scuola che mi offrirebbe veramente materie interessantissime da studiare. Anche riguardo alle lingue straniere, dal terzo anno c'è uno studio approfondito della letteratura. Quindi è interessantissimo anche affrontare la lingua sia dal punto di vista comunicativo ma anche del complesso, del contesto storico di ogni singola lingua. Ringraziamo il professore Alfredo Padalino per la chiarezza e la disponibilità. Grazie a tutti voi di Telecattolica.